Ciao a tutti eccoci al reparto Polini per una nuova puntata con Polini motori oggi si parla ragazzi di elettronico ovvero di strumenti che ci permettono di tenere sotto controllo un po' tutto ovvero i giri motore ma perché no anche le varie temperature perché quando si interviene su uno scooter per andare su strada ma soprattutto per andare anche in piste quindi partendo dall'intervento più semplice che può essere quello della sostituzione del filtro aria fino ad arrivare alle massette alla marmitta a un intervento più corposo ovvero la sostituzione di cilindro e pistone serve avere sotto controllo quello che sta succedendo nel nostro motore quindi i giri motore raggiunti ma perché no anche le temperature allora adesso andiamo a scoprire quali sono gli strumenti pensati di Polini proprio per questo lavoro lavoro che può essere fatto perché no anche nel garage sotto casa parliamo di tre prodotti ma per ultimo ci sarà anche una piccola sorpresa andiamo a scoprirli iniziamo con il più semplice siamo a pagina 335 del ricchissimo catalogo Polini e cosa vediamo eccolo qua RPM Polini uno strumento davvero molto semplice e molto piccolo eccolo qua ve lo mostro che ci permette di avere sotto controllo che cosa i giri motore è pensato per esempio chi ha una minimoto e vuole tarare la frizione ma anche uno scooter e vuole regolare il proprio variatore questo è uno strumento molto semplice tra l'altro può essere come potete vedere autoalimentato a una batteria interna oppure può essere collegato al 12 volte in questo caso diventa retroilluminato ha il visore vedete con i numeri davvero molto semplice e copre un range da 5 a 15.000 giri motore mentre per chi vuole qualcosina di più abbiamo il contagiri con due temperature abbiamo la temperatura sotto candela e la temperatura dell'acqua che poi appariranno nel display nella parte bassa giri motore che vanno dai 0 ai 20.000 giri che sono visibili con i numeri ma anche con un display con barra che in questo caso può essere settato in modo da avere una visualizzazione di un certo range ovviamente non abbiamo tutti i 20.000 giri che appaiono in questa lezione possiamo decidere quali far apparire passando poi al terzo strumento ancora più completo dotato di due tipi di sonda è il polinia f ovvero asta per air e f per fuel e questo strumento ci permette per l'appunto di avere sotto controllo il rapporto stechiometrico delle moto quattro tempi comprende una sonda lambda grande che come quella che vedete qua che è una m18 oppure la sonda piccola quelle più moderne m12 prodotto è stato pensato per i quattro tempi che per esempio vedono un cambio una sostituzione della marmitte del cilindro o del filtro aria e questo strumento ci ovviamente permette di capire se stiamo andando sulla strada giusta ma c'era anche una piccola sorpresa eccolo qua abbiamo il digital racing system di rs ve lo stiamo mostrando anche montato su paramotore di polini strumento bellissimo prima o poi riusciremo a provarlo se qualcuno ci insegnerà perché non è affatto semplice è un un mezzo di volo davvero molto estremo ecco cosa troviamo all'interno abbiamo due termocoppie ch t e gt che ci permettono di avere la temperatura sotto candela o la temperatura di tipo k da 6 mm questo è uno strumento sicuramente perfetto per avere tutto sotto controllo e tarare eventuale elaborazione del nostro motore è sicuramente uno strumentino molto piccolo comprende davvero tutto è sicuramente un prodotto molto più resti quindi pensato per chi cerca uno strumento più raffinato rispetto magari a questo che abbiamo visto molto più semplice che ha soltanto la possibilità di visualizzare i giri motore quindi man mano vogliamo un prodotto dal più semplice a via via il più complesso polini ha davvero di tutto ma ricordiamo i prezzi di questi tre strumenti che vi ho mostrato allora il contagio il più semplice 75 euro e si chiama polini rpm poi abbiamo il polini rpm counter più due temperature e viene 152 euro più iva poi la f ovvero air fuel e questo che vi abbiamo mostrato ed è in questa pagina la pagina 335 viene 165 euro ivato il mio consiglio come sempre quello di consultare il catalogo polini motori e andare sul sito polini.com dove troverete tutti questi prodotti poi tantissimi altri vi aspetto alla prossima puntata vi consiglio come sempre di continuare a seguire i nostri canali social quindi facebook instagram quello di polini motori costantemente aggiornato di nuove foto nuovi video e poi moto.it il mio maurizio bettor power vi aspetto ovviamente qua in polini adesso vedremo se nel reparto corse o in un'altra ala del di questa grande struttura mi raccomando veloci ma con la testa quindi ride fast safe life ciao ragazzi ciao 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 ciao